Live camera, anche questo è uno dei temi che si è affermato nel corso del 2016. Una delle ultime interessanti interpretazioni è CubeCam, di Kean Digital, piccola videocamera che fa del suo peso ridotto il suo principale punto di forza. Pesa infatti solo 24,5 grammi. CubeCam è sempre pronta all'azione, inizia a registrare in automatico appena accesa oppure si può avviare ed interrompere la registrazione tramite l'apposito pulsante facilmente raggiungibile. Il pulsante cambia colore a seconda della modalità di utilizzo. La videocamera registra foto JPEG a 720p e video a 1080p a 15 frame al secondo e 720p a 30 frame al secondo in formato MP4-H264. I tasti sul lato permettono di accendere e spegnere la connessione Wi-Fi e di cambiare la modalità da foto a video e viceversa. L'ottica ha apertura f2.5 e l'angolo di visione è di 120 gradi. Per memorizzare foto e video dobbiamo usare una scheda microSD supportata fino a una capienza di 64 GB. Dispone di una clip montabile sia in orizzontale che in verticale e permette il facile aggancio alla camicia o alla giacca. La clip si aggancia saldamente ai vestiti e il peso contenuto non la fa penzolare, mantenendo l'inquadratura sempre dritta di fronte a sé. Molto discreta nella livrea nera, sarà disponibile anche in colorazioni più sgargianti come oro, rosa e bianco. La batteria interna è ricaricabile tramite una normale presa microUSB.